Salve a tutti ragazzi e ragazze e bentornate in un nuovo video stasera, allora intanto vi faccio vedere che sono un po' abbronzata, sono stata a mare martedì scorso con le mie amiche e mi sono abbronzata tantissimo, sto anche spellando la pelle perché c'era veramente, veramente parecchio sole ho dimenticato la protezione a casa e quindi appunto mi sono spellata allora, pomeriggio sono stata dalla mia grandissima coach Lorena Grasso che saluto un bacione, ciao Lori e ho preso i prodotti di Herbalife per me e la mamma e poi sono stata anche con la mamma da Eurospin a comprare un po' di cose per la settimana quindi adesso vi faccio vedere i prodotti Herbalife e poi vi faccio vedere quelli da Eurospin una mini-hole Eurospin perché ho preso giuste le cose per questa settimana perché abbiamo abbastanza spesa a casa, ho preso il necessario e allora iniziamo allora, la mia carissima, la mia piantissima coach Lorena mi ha fatto avere il Proventi Select che sarebbe un preparato proteico che è solubile in acqua, il gusto, l'angelia ci sono proteine della soia ed è ad alto contenuto di proteine, fibre e 25 vitamine e minerali questo qua è 630 grammi, quindi un bel barattolone questo qui serve in aggiunta al frullato per dare una carica in più di proteine oppure per fare il Jet Drink il Jet Drink è una bevanda proteica con due misurini in questo due tappi di aloe vera e un cucchiaino piccolo di infuso alle erbe che va a sostituire un po' un'alimentazione troppo eccessiva quindi con questo bisogna mangiare pulito cioè abbastanza pesce, carne bianca evitare gli insaccati, i salumi, i cibi grassi, i pesci grassi evitare il pane e la pasta, anche patate e legumi quindi questo è fondamentale io ne bevo due litri al giorno e due litri di infuso quindi questo poi ho preso per me e per la mamma gli Omega 3 questi qua poi abbiamo preso una di infuso alle erbe 100 grammi una di aloe concentrata alle erbe gusto mango e due frullati questi qui uno fragola e uno cacao i nostri gusti preferiti poi prossima settimana prenderemo gli altri questi bastano per un mese ciascuno allora invece ora vi faccio vedere i prodotti all skin 10 reale allora partiamo dal reparto frutta e verdura diciamo che quasi tutto va in frigo se non tutto quasi tutto allora la rucola questa qua comprata appunto è 125 grammi l'ho presa 99 centesimi poi ho preso una lattuga romana questa qui pagata 89 centesimi poi ho preso i peperoni adesso vi dico subito quando sono venuti peperoni rossi sono questi un euro e 89 al chilo questi sono un euro e 24 sono venuti sono due perché mi piace una rostiglia oppure da aggiungere a una frittata come ho fatto oggi una frittata ho fatto oggi di zucchine e peperoni senza grassi in padella senza olio una padella antiaderente che è la fine del mondo e mi sembra che ve l'ho fatta vedere in un video di qualche tempo fa di md e poi vi andate a rivedere il video è una padella straordinaria poi ho preso una melenzana queste qua erano erano 1,49 euro al chilo e questo è venuto 1,06 euro poi ho preso una lattuga iceberg questa qui ho pagato 89 centesi un ananas che era 1,09 euro al chilo questo era un chilo e mezzo è venuto 1,60 euro poi ho preso le zucchine queste qua verdi le zucchine erano 1,29 euro al chilo queste sono 654 grammi pagate 84 centesimi sono 4 perché io faccio molto le verdure arriscite durante la settimana quindi va bene poi ho preso queste noce pesca pagate noce pesca noce pesca ve lo dico subito 1,69 euro sono un chilo ok per quanto riguarda i reparto freschi abbiamo preso una confezione di bresaola queste 80 grammi pagata 2,19 euro poi questo arosto di tacchino affettato 100 grammi pagato 1,19 euro poi abbiamo preso il succo di limone 39 centesimi 200 ml questi gelati per mio fratello Andrea sarebbero i promosi cremini che a lui piacciono 1,59 euro sono 6 questa bevanda alla soia vegetale pagata un litro 1,59 euro e infine il pesce ho preso le acciughe decapitate le alici queste qua in siciliano i mascolini che sono 6,99 al chilo pagati 3,44 euro sono quasi mezzo chilo e poi ho preso gli sgombri 6,69 euro al chilo mezzo chilo quasi 600 grammi e 3,89 euro sono 4 che li faccio a rostiti e li mangio perché con questa nuova dieta mangio molto pesce azzurro e pesce magro quindi questo va bene ho dimenticato a farvi vedere il multivitaminico di Herbalife questo qui per donna che l'abbiamo preso appunto perché quello è finito e il totale della spesa è stato 23,50 euro bene ragazzi e ragazze questo era tutto il video haul e io vi saluto vi mando un bacione spero che state tutti bene e che la vostra è stata iniziata e anche il vostro mare un bacione alla prossima